Salve, sono Mauro Di Amicis, lavoro qui da non molti anni, avendo già praticato in altre aziende, ma il settore non è proprio questo prospero in questo periodo. Tanta concorrenza, si viene da un periodo d'oro, adesso è un momento di difficoltà, le aziende sono tante e quindi i prezzi dei lavori scendono, è tutto difficile. Quindi che prospettive vedi per questo lavoro nei prossimi anni? Questo lavoro qui, proprio questo che faccio io, sono macchinista paleniana, facciamo le costruzioni sceniche, la vedo dura, le aziende stanno in difficoltà, manderanno tutti a casa e noi dovremmo diventare tutti i liberi professionisti, forse o comunque cercheremo di organizzarci in qualche modo, insomma non sarà facile. Il punto interrogativo è un'idea. Senti, siccome noi come progetto Leonardo Onshen crediamo ancora che la formazione continua sia uno dei punti focali, tu che ne pensi? Assolutamente la formazione è indispensabile, soprattutto perché se non ci porta crisi, qualche gente, qualche persone entreranno in questo mondo, sarà un lavoro che andrà piano piano perso, ma bisognerebbe magari riattivare il listeggio o comunque dei corsi per imparare l'altro quello che stiamo facendo, per esempio in così dire ancora. Ci dice che saremo soppiantati dalla tecnologia anche noi, nel virtuale, se quant'altro. hai introdotto un argomento essenziale che è quello della digitalizzazione di tutti i mestieri. Sì, non tutto è possibile, diventa tutto, dopo diventa tutto uguale per tutti, tutti i lavori saranno molto simili agli altri, insomma, anche la fruttano una fantasia, però quando cercheremo di risolvere i problemi della musica esemplare, sarebbe bello pensarsi. Grazie, grazie.